in 2006 signor gaspere lucchetta vide un schizzo mio e mi chiamò dicendo di disegnare o progettare divani e non l'ho mai fatto prima facevo sempre le auto e architettura alla fine ho provato e è uscito fuori il tulis nei miei progetti ho sempre pensato al uno dei gesti del nostro essere umani quella di coccolarsi e ho seguito questo discorso su tutti i miei diversi prodotti per desirè tulis lacun hanno sempre questo aspetto di andare intorno come un guscio di amore intorno ai suoi tenti lacun è una piccola isola e da questo è partito anche di ampliare la gamma con lacun island dove due persone possono anche estendersi confortevole mente sono molto contento di questo prodotto mi sento sempre affiancato del ufficio tecnico al desirè ogni volta che prendiamo una sfida verso il nuovo progetto come progettista mi trovo nei condizioni ottimali la preparazione dell'ufficio tecnico è quello che mi soddisfa in tutte le diverse maniere come persona mi piace migliorarmi ci credo fortemente in questa filosofia e lo porto anche nei miei progetti il continuo evoluzione è un percorso che ci porta tante sfide nella vita e piano piano vedo anche nei miei progetti c'è un miglioramento e anche un'evoluzione è una maturità e questo ci porta oggi ad avi avi un progetto dove ho aggiunto un altro elemento del nostro essere quello di conversare questo forma curva proprio fa fluire la conversazione fra le persone ora che ho sviluppato questo forma molto dinamica comunque porta verso un nuovo futuro e con la sintonia fra me e la famiglia lucchetta che è sempre dato una mano libera a me mi sa che ci sta portando verso una nuova strada avi oggi è un vero risposta per quanto prodigato per arrivare questa filosofia e questo è veramente un'ispirazione per continuare a rivolgere